Manca un infermiere, gli spazi sono troppo angusti, questo quanto rilevato da una visita del deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e del collega Stefano Zito al reparto di ematologia dell'ospedale Sant'Elia. I due deputati hanno predisposto un'audizione dell'assessore alla sanità in commissione a Lars per chiedere chiedimenti sulla situazione e cercare nuove soluzioni. Un solo infermiere non consente, si legge nella nota, inviata dai deputati di effettuare un servizio più attento per i pazienti, soprattutto di notte. Ho parlato con i pazienti che hanno avuto parole di grande elogio per lo staff medico e per il servizio dei volontari. Ha detto Cancelleri, ciò significa che c'è un grande impegno professionale umano ma non possono evidenziare la mancanza di un infermiere inorganico, la cuna che non viene colmata da tempo. Questo determina la presenza di un solo infermiere nelle ore notturne, cosa che non permette un servizio ottimale.